Pronto per iniziare a giocare per Sampdoria Inter. I nerazzurri stanno per ricevere il croato dal primo minuto, a Genova dovrebbe riprendere il ruolo di trequartista, con il ritorno di Cielanoglu come mezzala. Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti ad un'altra news dall'Inter, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati quando avete qui news dall'Inter, lasciate il vostro like all'inizio del video per rafforzare la famiglia nerazzurra, andiamo. Nel derby vinto contro il Milan, i tifosi dell'Inter hanno potuto rivederlo in campo dopo quasi tre mesi alla prova generale del suo ritorno nell'undicesimo titolare, missione compiuta per Marcello Brozovic che ha esordito a San Siro con il Milan, giusto spirito dando l'impressione che il tempo dall'ultimo infortunio non fosse mai passato. Il croato si è subito riposizionato al centro dell'orchestra, nel ruolo di direttore a lui tanto caro e onorato nel migliore dei modi da Cancelanoglu in questi mesi, il turco non glielo ha mai fatto rimpiangere, tanto che qualcuno è venuto da chiedersi cosa sarebbe successo alle gerarchie dopo il rientro del croato. La risposta, a questo punto, è chiara e concisa, assolutamente niente. Brozovic è pronto a rimontare dal primo e, come riporta la Gazzetta dello Sport, la trasferta del Ferrariser contro una Sampdoria pesantemente colpita dal pareggio subito a Monza al 99esimo minuto sembra l'occasione giusta, d'altronde, dando la risposta data in un momento cruciale del derby, con il risultato ancora aperto e la vittoria tutt'altro che scritta, rassicura, Simone Inzaghi e il tecnico. Solo una richiesta per chi è fedele tifoso nerazzurro, lasciate il vostro mi piace e iscrivetevi al canale. Continuando. Brozor fa perno a centrocampo nel Genoa, con Celanoglu pronto a posizionarsi sulla sinistra come aveva fatto in origine, con Barella sulla fascia opposta. Questo determina l'inevitabile spostamento delle gerarchie interne per Mkhitaryan, interprete affidabile nel ruolo di centrocampista che non è mai mancato in quantità e qualità sia nel possesso che nel possesso palla. Un ritorno al passato nel centrocampo nerazzurro, proprio alla vigilia degli ottavi di Champions League, in cui vicecampione d'Italia affronterà il porto di un vecchio noto come Sergio Conceicao, al quale il minimo errore potrebbe costa caro. Per inciso, non è un caso che la principale competizione continentale sia considerata il torneo in cui i dettagli fanno la differenza. Dettagli sempre cari a Brozovic quando si tratta di prendere il testimone per dirigere le operazioni, così delicate, del reparto più sensibile e, quindi, la fortuna di una squadra che ha saputo sopperire con stile alla sua assenza. Guarda i video suggeriti, cosa ne pensi della novità? Lascia la tua opinione nei commenti. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale, fino alla prossima volta.